Diamo la possibilità anche a queste persone, maschi o femmine che siano, di poter salire su una macchina a corsa. Presentato a progetto destinazione pilota della Michael Racing, in Villa dei Cedri a Vallobiadene, mercoledì 19 settembre. Michael Racing, come dicevamo prima, è nata nell'89 con la volontà di Giuliano, mia spalla destra, mio cuore destro, mio braccio destro, mio tutto e abbiamo acquistato all'epoca una vettura e da lì abbiamo iniziato il mondo delle corse con io pilota e lui meccanico. Dopodiché questa Michael Racing ha creduto nella vettura, nella Clio, sono stato il primo in Italia ad avere la Clio Williams certificato dalla Renault. Se mi fai un prelievo del sangue mi viene fuori la RH Renault, sicuro al 100% e da qui la nostra volontà di continuare sempre sotto il mondo Clio, mondo Renault, perché è un mondo molto affidabile e fa sì che ci permette di conoscere per bene le vetture, ormai da oltre 20 anni, e questo ci permette di abbattere bene i costi. L'ambizioso progetto, rivolto a tutti i ragazzi adulti da 18 anni in su, non solo dà la possibilità di entrare nel mondo delle corse, ma promuove anche la sicurezza in auto grazie alla competenza, alla passione ed alle capacità di persone amanti del proprio lavoro e delle corse automobilistiche. La parola destinazione pilota è proprio un destino che vogliamo dare alla nostra vita, ma soprattutto ai nostri giovani che possono intraprendere questa attività sportiva, che ha tanti sensi sia di competizione ma soprattutto di sicurezza stradale, perché l'obiettivo che vogliamo trasmettere ha sì portare un futuro pilota a competizioni elevate, ma soprattutto far sì che tutti gli altri piloti che hanno provato le nostre macchine possono avere un'accortezza in più sulla strada normale, sulla strada di ordinare viabilità. Sicuramente l'intento nostro, parlando di sicurezza, è quello di creare consapevolezza. Se noi chiediamo a 10 persone come ritengono la loro abilità di guida, di sicuro ti dicono 8, 10, 9, 10. Poi in realtà li mettiamo dentro in una pista, gli facciamo fare degli esercizi e vediamo che già l'8, 10 diventa un 4, 5 o un 3, 2 e lì si rendono conto delle difficoltà. Perché questo? Perché per fortuna nel 90% dei percorsi che uno fa non si troverà mai a fare delle frenate d'emergenza e quant'altro. Noi insegniamo a superare i momenti d'emergenza, quindi le criticità. Il nostro motto è la conoscenza porta a sicurezza. Se sai come si comporta la macchina, sai anche come evitare una cosa o l'altra. Quindi invitiamo tutti ad andare al sito di destinazione pilota, dagli un'occhiata e magari iscriversi. Sì, sicuramente invitiamo tutti a dare questa informazione www.miclerising.it Cliccate sul link destinazione pilota e lì avete la possibilità di trovare tutto quello che vi serve per capire come funziona questo progetto. Però nulla vieta di poter partecipare o di poter segnalare la vostra esigenza di poter correre con le nostre vetture e per provare un'esperienza. Mi piace sottolineare che una volta all'anno c'è una famiglia, dalle 7 alle 8 persone ogni volta, che noi gli diamo le macchine, è proprio una famiglia tra cugini e parenti. Ci chiedono le vetture, una domenica le organizziamo in pista Vittorio Veneto, che è la nostra pista di base, grazie a Armando Tonel, il quale ci mette a disposizione la pista e noi facciamo divertire le persone, ma soprattutto le formiamo in maniera tale che abbiano questa contezza anche nella sede stradale, perché è quello che ci preoccupa più di tutti.